non c'è più la pianta in questi livelli, a me piaceva la pianta io no, a me non piaceva mi metteranno più avanti ha visto il video e usavate proprio la strategia completamente sbagliata c'è un bottone ah, l'avete già promuerto tu cazzo taglia sto cosa si no, i miei prendi solo soldi oh, un checkpoint, ah dai che è quasi morto io mi butto nella mischia oh, merda, merda, merda e moriva, porco quanti checkpoint è lì? dai, c'è checkpoint lì vicino cazzo cazzo non c'è modo per parare sti cazzo di colpi eh, forse forse una delle skill del paladino forse si può parare poi prendo una specie di cosa di scudo sono morto sti scheletri con la cresca sono fortissimi fortunati che li ho anche fatti ammalare con la il gleno oh, merda sono malattico cazzo, guarda, un arciere lì su il trespolo non c'è una chiave ma c'è una chiave cos'è sta roba? faceva il camper stava camperando ma chi è il gioio senza strafe e sbattere la tastiera, roccia? eh? ma sei ti che gioi senza strafe? sei pazzo? io gioco sempre con lo strafe apposta fin dei tempi di perfect dark tutti giochiamo con il joypad credo si sarà Ed praticamente il mio personaggio con lag sembra che mi abbia dei frame ok praticamente questa cosa che la maggior parte dei gioi siano limitati in 4 è una cosa assurda cioè i tempi delle console sono limitati in 4 perchè c'era il multitap o le quattro porte nintendo del 64 ma su pc che senso ha limitarla a 4? niente è più una cosa secondo me di abitudine eh game design quella cazzo maafu 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 �pit il record intanto tu mori 700.000 volte non gira così che l'attiri 100.000 nemici sono morti sono zombie no ci sono scheletri con la cresta oh merda scheletri con la cresta è fortissimo è uscito dalla state of rage oh no 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 non so neanche dove siete ma che cazzo io mi metto sul bordo delle fosse dei nemici per romperle e mi compaiono i nemici dietro e mi uccidono da dietro